A Città di Castello, stadio Corrado Bernicchi, importante risultato della partita Città di Castello, Città di Foligno. Il Città di Castello batte per 2-1 meritatamente con l'arbitro Dascanio di Ancona, assistenti Fumarola Vitale di Ancona e soprattutto 700 spettatori ad assistere alla partita. Viene essere data una targa Federico Giunti dal presidente Caldei perché è il primo e unico giocatore del Città di Castello che nel novembre 1996 ha vestito la maglia della Nazionale. La partita parte subito al settimo con gol di Gorini sotto l'incrocio alla sinistra del portiere su tiro di punizioni. Grandi applausi del pubblico tifernate. Al decimo clamorosa deviazione di Urbanelli su una punizione diretta di Napolano da 30 metri, però è stata probabilmente la casualità e l'incertezza di Calvaresce che ha visto la palla probabilmente fuori. La partita continua è il 26esimo del primo tempo, 2-1 del Città di Castello. Dopo uno scambio, Locchi, 20 anni, che lancia Missaglia sulla destra, tiro di Missaglia e è probabile incertezza del portiere Ranieri. La partita si trascina alla fine del primo tempo e non succede nulla se non al quarantesimo del primo tempo con Napolano che sbaglia da dentro l'area. Nel secondo tempo entra praticamente Gorini, ancora il metronomo del centrocampo, che su cross Zanchi butta poco alto sopra la traversa. Clamoroso errore di Di Paolo al tredicesimo del secondo tempo. Al venticinquesimo del secondo tempo c'è un rigore su fallo di Missaglia. Purtroppo Maiella dai 11 metri si fa parare da Ranieri che recupera l'incertezza del primo tempo. Per quanto riguarda i quattro minuti di recupero non succede nulla se non una pressione da parte del Foligno e un po' di incertezza, di paura da parte del Città di Castello. Il Città di Castello, possiamo dirlo sicuramente, è una squadra coriacea dotata di buona individualità e con i migliori in campo, dal mio punto di vista, sono stati Gorini, Pilleri e Missaglia, veramente eroi di questa partita. Per quanto riguarda il Città di Foligno ho visto un Di Paola, Urbanelli e il 96 Giambi.